è la sua prima volta dalla ginecologa l'importante è che mi rilassa il muscolo perché se no non... vabbè bevo dopo non riesco ad aprirla... mi rilassi bene i muscoli se no non riesco a entrare allora intanto non va assolutamente depilata, il pelo serve per fare da barriera contro i batteri se al suo ragazzo piace depilata se ne va a cercare un'altra, lei mi tiene il pelo ok proviamo ad entrare, respiri, rilassi, non riesco ad entrare, rilassi, no così rilassi no la falange, no rilassi, rilassi, aiia, aiia il dito non ci riesco oh grazie oh grazie